Gionnino dove stiamo? Stazione navale di Civitavecchio Gionnino dove siamo diretti? Dove siamo diretti? A casa del mio fidanzato Come ha detto che Gionnino Gionnino ma tutte queste teenager cosa ne aspetta? Questa lunga notte Danno pane per i loro denti C'è un gel Gionnino Teenager? No ma che stanno per i femmini sposati E' rosso Come fa i teenager? Questa è proprio l'area di vacanza Ma i femmini è rosso Che teenager non ci interessano più ormai Ritrai il vasettino Sì C'è com'è?